5, 4, 3, 2, 1, vai, sinistra 1, in inversione sinistra, in destra 2 piena, vai, 40, in destra 2, in accenno sinistro, in destra 4 più veloce, in sinistra 5 stringi, diventa 4 al secondo, 20, in destra 4 due tempi, apre accenno, apre accenno, in sinistra 5 sfiora taglia, 20, sinistra 5 e corta sfiora, in destra 3 più, in sinistra 4 più, lunga sfiora molto, 20, accenno sinistro tieni, in destra 4 più veloce, 40, sinistra 3, larga in uscita, in destra 2, in accenno sinistro, 10, sinistra 3 corta, 3 corta, in accenno sinistro, subito in versione destra, in sinistra 6 tieni, in ritarda a destra 2 secca, in sinistra 2 tonda, apre, e accenno sinistro, vai, taglia, Ferrari piegato destra 3 corta veloce, 50, accenno sinistro, e accenno destro, e accenno sinistro, e accenno destro, in sinistra 2 corta veloce, 20, destra 3 più, apre tieni, 3 più, apre tieni, in sinistra 2 corta veloce, 20, accenno destro, 20 al cartello destra 5 lunga lunga, 20, sinistra 4, attenzione diventa 2 chiude, in destra 3 più piena tieni, in sinistra 6, in destra 6, RL destra 2 più corta veloce, apre, in sinistra 2 giratonda, veloce qui, e accenno sinistro, e accenno destro, e accenno sinistro, a cura!